Sappiamo che è una partita affascinante, ovviamente importante, potremmo aumentare il distacco su di loro, però sappiamo che di fronte c'è una squadra che in questo momento ha trovato dei risultati importanti, ha fatto prestazioni di un certo livello, quindi come tutte le partite del campionato, a maggior ragione questa sarà difficile. Le partite sono tutte difficili, ma proprio il momento nel quale affrontiamo l'Inter è un momento particolare perché, come ho detto, loro stanno bene. La spinta del nostro pubblico non ci è mai mancata, a maggior ragione sarà importante domenica sera.